Gentili telespettatori, buona giornata. Antonio Ricci in questi ultimi giorni è tornato alla ribalta e lui si pavoneggia di praticamente aver rovinato il matrimonio di Giorgia Meloni. Un matrimonio, chiamatelo come volete. Lui dice che poteva anche ringraziarmi, un giorno potrebbe anche ringraziarmi perché gli ho fatto scoprire. Ma la Meloni come tanti in Italia, moltissimi, poteva anche aver deciso di continuare così, magari per altri dieci anni, per cercare di separarsi dopo che la figlia compisse 18 anni. Sapete quante persone stanno insieme per far vedere ai figli che è la famiglia unita? Quindi non sappiamo, magari la Meloni non sapeva, magari sapeva, magari voleva andare avanti così. Che diritto hai tu di rovinare una famiglia? Oh ma io ti ho fatto un piacere, ma che diritto hai tu di prendere dei filmati, buttarli in prima serata e rovinare una famiglia? Sì, Gian Bruno era uno schifoso quello che faceva, veramente volgare, riprovevole, persone di quel tipo da tenere alla larga, gente volgare che tutto il giorno fa battute a sfondo sessuale. Insomma, un personaggio veramente disgustoso, però se la Meloni gli piaceva sto personaggio disgustoso, tu che diritto hai di dire alla Meloni guarda, guarda, io c'ho i filmati? Quindi, pensandoci dopo qualche giorno a quello che è successo, la Meloni aveva tutto il diritto di poter continuare una relazione anche con un personaggio disgustoso, magari avrà avuto i suoi buoni motivi. Lui oggi ci viene anche a dire, viene ad attaccare il capo del primo partito e il capo del secondo partito, Giorgia Meloni e dell'Ischlein. Perché dicendo facciamo più opposizione noi di lei, sta dicendo tu non sei capace a fare il tuo lavoro. Va bene, ma soprattutto sta dicendo la Meloni, noi facciamo opposizione al posto del PD, perché noi praticamente abbiamo fatto rovinato la vita sentimentale della Meloni, voi non siete capaci, facciamo più opposizione noi di voi. Capite che a questo punto la figura di questo Ricci diventa sempre più disgustosa, se il ciuffetto è disgustoso per il suo comportamento in quel senso lì, quest'altro signore anche lui diventa di quelle persone da starci lontano per altre ragioni. Quindi Gian Bruno è un personaggio da starci lontano per quelle ragioni, questo Ricci invece si comporta in un altro modo che è riprovevole, nel senso hai tirato fuori i filmati, hai rovinato una famiglia. Adesso tutti i giorni vai a raccontare, la Meloni dovrebbe ringraziarmi, io faccio più opposizione della Schlein, quindi praticamente dicendo alla Schlein tu non sei capace, io invece rovino anche la famiglia della Premier. E' brutta questa roba qua, è brutta, è brutta brutta brutta, nel senso che la Meloni è attorniata da persone disgustose, ma non solo questi due personaggi qua, anche gli altri. Guardate che anche gli altri che ha intorno, non so se l'avete sentito parlare, avete sentito parlare quelli che ha intorno la Meloni? Quelli che ha intorno, i fedelissimi, quelli che lei reputa, il non plus ultra, ma l'avete sentito parlare? Gli avete sentiti fare un ragionamento? Io sì, ma li ho sentiti parlare e ragionare, e sono rimasto con quella faccia un po' così, di quelli che hanno visto Genova, no, povera Genova, città bellissima, ma insomma, diciamo che la Meloni ha intorno persone mamma mia, ecco, posso dire solo mamma mia, o mamma, o mamma, ecco. E così Ricci dice, ultimamente dicono che facciamo più opposizione noi che Ellie Schlein, per ora da parte della Schlein non la vedo, ma il suo è un ruolo difficile, è da poco tempo che è lì, una delle prime cose che ha fatto è andare a una festa a casa di baglioni, ha fatto capire la tristezza su come vuole comportarsi, spero si redima. Allora, io, allora, se veramente questo Ricci si comporta in maniera autonoma, quindi è autonomo all'interno di un'azienda privata, se è veramente così, ma ho dei forti dubbi a credere che lui si muova autonomo, secondo me quei video erano stati bloccati e poi sono stati autorizzati come uscita. Quindi io al 95% mi sono convinto che quei video prima erano stati bloccati e poi sono stati liberati, per diverse ragioni, come dicono molti che hanno contatti in questi ambienti politici e dei media, come D'Agostino. Però, se questa cosa ricade in quel 5% di possibilità che davvero questo Ricci abbia fatto tutto da solo, io se fossi Pier Silvio chiamerei il direttore generale del personale, perché lì c'è la divisione del personale, gli direi, senti, licenzialo immediatamente. Eh ma come facciamo? Licenzialo, costi quel che costi, io ho tutti i soldi per pagare penali, domani mattina non lo voglio più vedere, in ufficio, dove ha il suo ufficio. Per domani mattina il suo ufficio deve essere vuoto, con la porta chiusa a chiave. Io, se fossi Pier Silvio, e davvero questo Ricci avesse agito in autonomia creando quello che ha creato, io lo avrei licenziato in tronco. Come avrei licenziato in tronco anche Gian Bruno. Immediatamente. Senza neanche passare dall'ufficio, le sue cose gliele spediamo, non voglio quel ciuffo che passa nei corridoi. Ecco, questo è quello che avrei fatto io, io ho gestito delle aziende come direttore vendite, direttore commerciale, come quadro dirigente, quindi ho un'esperienza nella gestione del personale. Io avrei fatto così, avendo la possibilità di farlo, naturalmente. Poi se c'hai qualcuno sopra che ti dice no, non lo puoi fare. Però io avrei agito in questo modo su questo Antonio Ricci, se davvero si è mosso in autonomia. Grazie a tutti e arrivederci a presto.